E' domenica mattina si è svegliato già il mercato in licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa e stasera poi le faccio una sorpresa c'è la vecchia che ha sul banco foto di papà Giovanni lei sta qui da quarant'anni o forse più e i suoi occhi hanno visto re scannati ricchi ed impiegati capelloni, labri, artisti e figli di... Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese cosa avrai di più? Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla le patacche che ti ammolla quello là già di tutto pezzi d'autospade antiche quadri falsi e la foto nuda di Brigitte Bardot Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese cosa avrai di più? Tutti rotti quei calzoni si vabbè che roba usata ma chissà chi l'ha portata quanto vuoi quella lì non è possibile che lei insieme a un altro non è certo suo fratello quello e se l'è scelto proprio bello ci son cascato come un pollo io e che hai fatto? ma si che sono un livoio io non livoio? Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese cosa avrai tu? Porta Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese guardarvi più Grazie a tutti. Grazie a tutti.